I fan sono impazziti. Nella nuova puntata di Viola come il mare, Farah, Kishan Wilson, Demir, Kanyaman, Viola, Francesca Chillemi, dormono sul petto di Raniero, Romano Reggiani. Vedremo Francesca Chillemi e Kanyaman nella nuova puntata di Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 14 ottobre. Ma Francesco porta le cose su un altro livello quando Farah e Viola baciano Raniero, ogni volta che pensi di sapere che ci sei, scopri qualcosa che cambia tutto. Per sempre. Nel nuovo episodio della serie, le parole di Viola Vitale preannunciano nuovi misteri e segreti per i due eroi. Demir continua la sua indagine sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra saperne molto. Intanto l'indagine sulla morte di un imprenditore coinvolge un importante giornalista di Sisaline Web News. Con la sua redazione allo sfascio, Viola riesce ad essere felice con Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre. Grazie a Raniero, Viola scopre che sua madre ha visitato Palermo qualche anno fa. Non ne sapeva nulla, ma forse è questa la chiave per seguire suo padre. Confermata invece la seconda stagione di Viola come il mare. Inoltre, nuovi episodi della serie. Si sostiene che abbia già iniziato a essere scritto.